E' avvolta da teli e impalcature, oramai da 12 anni, la storica chiesa di Santa Maria di Portosalvo in via De Gasperi a Napoli. 12 anni dagli strappi presenti nel telone usato per coprire il cantiere, non sembra che il lavoro di restauro abbia compiuto significativi progressi. Ed è per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori che i rappresentanti del comitato Portosalvo, che da anni è impegnato nella salvaguardia dei monumenti cittadini e quelli della seconda municipalità, si sono recati sul posto, dopo aver richiesto, come spiega il consigliere Pino Destasio, l'intervento di carabinieri e autorità giudiziaria. Vogliamo la verità su Portosalvo, non è più possibile che un bene monumentale, ecclesiastico, così importante, sia trattato in questo modo. Insieme ad Antonio Pariante abbiamo richiesto anche la visita dei carabinieri affinché si faccia chiarezza su tutta la vicenda. Su Portosalvo il meccanismo delle concessioni pubblicitarie legate al restauro dei monumenti di Napoli ha aperto un fascicolo anche la procura. E seppur ancora senza risultati, per il presidente del comitato Portosalvo, Antonio Pariante, è proprio nel meccanismo delle pubblicità che vanno individuate le cause dell'interminabile cantiere. E ha lanciato poi un appello al nuovo vescovo, Don Mimmo Battaglia. Portosalvo è oggetto di presunti immaginari restauri che invece servono solo a fare milioni di euro al sistema della pubblicità. Una cosa che ha determinato pure oltre 12 arresti per un'azienda che evidentemente era in odore di mafia e camorra. E adesso la chiesa la scopriamo praticamente esattamente come prima. Adesso c'è una fase importante, c'è il cambio della guardia a largo di una regina. Chiediamo a Don Mimmo Battaglia, e lanciamo veramente un appello, di intervenire sulla scabrosa vicenda di Portosalvo perché è una cosa che non possiamo più sopportare.